Aggiungo che dalle prime dichiarazioni vedo che molti, soprattutto da parte del PD, c'è grande concentrazione sulla nostra performance. Io capisco che il PD è in pieno congresso e ha i suoi problemi interni, però ascoltare il redivivo Letta, che sembra voler dalle dichiarazioni entusiastiche stappare delle bottiglie di champagne sulla performance del PD, quindi francamente se immaginiamo in particolare il Lazio, dove c'è un candidato indicato da Letta e da Calenda, dopo aver governato per dieci anni, rimediano e consegnano in particolare, perché erano loro i vincenti, i uscenti, consegnano la regione al centro-destra, insomma francamente avrei poco da festeggiare al canto loro. Però se si accontentano di questo, ben per loro.